buongiorno nuovo progetto dalla cucina dello spolab praticamente oggi stiamo belli comodi e anche ordinati una bella tazza di caffè all'americana e quella che vedete è una delle due telecamere che il mio collega bruno mi ha regalato tempo fa le ha sostituite lui con delle xiaomi e queste qui le ha regalate a me come vedete dalla marca sono appunto della avitzan è un prodotto notissimo che trovate ovunque praticamente le trovate nei supermercati le trovate nei brico center veramente ovunque sono molto molto economiche ovviamente hanno i loro limiti non può essere altrimenti questa diciamo è quella più piccola però è anche quella che da un certo punto di vista a noi smanettoni può piacere davvero perché questa qui si smonta la si toglie da questo supporto ed ecco qua quindi ci può dare anche la possibilità non è un caso che lui sta qui di fare qualcosa di piuttosto interessante forse lo farò in seguito ne ho due di queste telecamere ma il progetto di oggi è quello di recuperare un vecchio progetto che abbiamo fatto io io e il mio amico salvatore noccio un sistema semplice economico ma efficace se abbiamo questo allora il mio amico salvatore muccio praticamente ha una officina lui nasce come elettrauto ma realtà è anche un installatore di di antifurti satellitari che cosa fece un po di anni fa con io un termine simpaticissimo guastafurto guastafurto praticamente era la sua idea di di brand per tutta una serie di attività da svolgere su misura all'interno delle auto di fatto io gli ho fatto anche il logo eccolo qui lo vediamo insieme ma poi in realtà la cosa è morta lì e non sono andati oltre però quest'idea di guastafurto comunque sia ronza ancora nella testa di noi due ma adesso ci andremo come al solito sempre come facciamo il salvatore ci andiamo a giocare un po torniamo a questa telecamera qui queste telecamere qua sono molto simpatiche perché hanno prima di tutto uno slot per inserire una sd card vedono al buio perché c'hanno i led quindi vedono anche il buio altra cosa molto simpatica hanno l'altoparlante e noi con l'applicazione che gestisce queste telecamere da remoto noi possiamo anche parlare nella stanza in cui queste telecamere si trovano una sorta di un citofono praticamente e al tempo stesso ovviamente c'è un microfono quindi noi possiamo ascoltare quello che succede in quella stanza non solo guardare ma anche ascoltare hai un barba alla privacy eccola qua con questa qui adesso la andiamo a configurare proprio per realizzare questo guastafurto per come l'ho inteso io ultimamente praticamente nasce sempre da un'esigenza che fu chiesta proprio a salvatore dal cliente però purtroppo ci sono problemi con la privacy con le telecamere e non sono problemi di poco conto intanto io mi bevo il mio caffè e quindi la cosa è morta lì ma adesso la faremo uno per gioco allora l'idea è questa all'interno di un'auto installiamo delle telecamere una o più telecamere per controllare quando lasciamo in giro quello che succede intorno qualcuno passa e ci spacca lo specchietto retrovisore qualcuno spacca il parabrezza qualcuno fa un dispettuccio eccetera eccetera noi con questa telecamera da remoto controlliamo quello che succede dentro la macchina ora noi andiamo a completare questo progetto con questa qui che è una saponetta meglio sarebbe utilizzare è proprio un router vero e proprio comunque in questo momento disponibile ce l'ho ma mi serve da un'altra parte utilizziamo una saponetta questo in questa nella fattispecie è una saponetta della vodafone c'è una simcard della vodafone che è una saponetta dati la utilizzeremo lei con lei lei la saponetta lei con la telecamera insieme faranno il sistema ora andiamo a configurarli utilizzando questo wifi una cosa aggiuntiva queste non sopportano il wifi a 5 GHz vogliono sempre quello 2.4 il famoso 911 B se non baderà correggetemi se sbaglio andiamo avanti con la configurazione utilizzando l'app della avizion allora applicazione andiamo sullo smartphone andiamo via tutto ancora mamma mia ok allora nella mia cartellina delle cose domotiche eccola qua l'applicazione avizion bene con questa applicazione gestiremo delle telecamere qui già ce ne sono due configurate andremo ad aggiungere la terza però prima di fare questo dobbiamo dobbiamo resettare questa qui per resettarla dobbiamo attaccare chiaramente l'alimentazione cavetto usb che voi non vedete perché sto riprendendo in basso questa la togliamo ecco qua scusate questa la togliamo bene questo ci servirà per la configurazione questa adesso noi andiamo ad attaccare e con la touch qui c'è un buchino andiamo a fare il reset si è acceso vedete i led non so se si vedono i led spengo la luce forse ecco vedete bene andiamo a fare il reset 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0 un'altra fase di setup fa un baccano infermata altra cosa che io ho acceso e questo qui perché utilizzeremo questo perché poi andremo a mettere in macchina sta a giusto livello per fare un po di esperimenti non spengo perché peraltro scusate ma io non mi fido non mi fido ho paura che ho fatto bene a non fidarmi allora ho fatto un accrocco praticamente con i pezzi di una tastiera con l'hub ricavato da una tastiera perché la presa è una sola che devono mettere con l'usb sia questo che questo qua insieme allora ecco qui questo è il core code mi metto da parte preparato voi non lo vedete il codice della rete wifi spengo la luce perché adesso avrete bisogno di vedere quello che succede qui sul sul telefonino allora andiamo a ad camera wireless installation ok ha ragione perché mia vedete questo è quello che vi dicevo prima ok quindi perché devo fare una cosa devo andare sulle impostazioni della del computer scusate dello smartphone qui sugli strumenti sulle impostazioni devo andare a scegliere questo wifi il wifi che sarà quest'altro che è questo qui nato a allora nel frattempo sentite questo baccano questa la telecamera che ci sta dicendo non funziona ok ad camera wireless ecco qua adesso questa è la lettura del codice a barre che devo andare a leggere questo qui preso qui devo andare a mettere adesso la password di questo wifi scusatemi ok 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 che ci dice ok e adesso sovraggiunge il silenzio finalmente ci dice che di aggiornare la password ok io adesso metto una molto semplice invece della sua classica admin metto admin 2 faccio semplice così ok bene eccola qua camera online tic ecco qua ecco me ecco il mitico supporto eccolo qua bene a questo punto siamo pronti quindi basta semplicemente prendere tutto questo ambaradam quindi la saponetta e che è la caveria l'opportuna alimentazione che da 12 watts mi porta a 5 watts dell'usb quindi basta anche un adattatore da auto di quelli che portano da 12 a 5 e potremo andare a vedere da remoto quello che succede in auto e quindi Grazie a tutti.